L'incidente in località Arancio un mese fa, la constatazione amichevole, la promessa del responsabile di risarcire tutto. Una promessa però che non verrà mai mantenuta, perché tutte le generalità dell'autore del danno si sono rivelate false. È la disavventura capitata a un signore di 91 anni che ha subito un danno per centinaia di euro alla sua panda a seguito di un tamponamento con un furgone, il cui conducente, nell'effettuare una retromarcia, gli aveva danneggiato tutta la fiancata. L'autore del danno, un ragazzo di 30 anni, ha fornito all'anziano le sue generalità e i dati del veicolo, lasciando anche il suo numero di cellulare. Ma purtroppo l'assicuratore dell'anziana vittima, dopo qualche giorno, gli ha riferito che tutto quello che aveva dichiarato il giovane non corrispondeva al vero. A questo punto sono scattate le indagini della polizia stradale che sono riuscite, grazie alla precisa descrizione del furgone e del guidatore, a risalire al presunto colpevole, riconosciuto poi dalla vittima. Per il giovane è adesso scattata la denuncia per sostituzione di persona e truffa.